Il verde, la botanica e le piante sono cultura, tanto quanto le opere d'arte che ci sono nella collezione di Franco Mararicci e tanto quanto le nostre mostre temporanee noi ci teniamo a promuovere la cultura del verde e così faremo nei nostri incontri a partire dall'8 marzo che si intitolano i Giardini di Marzo ed è quello di quest'anno, è l'incontro che segue gli altri due cicli di incontri che abbiamo avuto gli anni scorsi proprio su questi temi. Diamo il benvenuto alla primavera anche se con un minimo di anticipo con questo 8 marzo dedicato alle Signore, anche noi al Laberinto dell'Amazone facciamo una grande festa alle donne di fiori, sarà Eliana Ferrioli insieme a Francesca Barzotto Cautorta e a Laura Gatti che presenteranno questo libro in cui personaggi femminili sono dedicati ai fiori, ai giardini, alla botanica, alla bellezza della natura sono celebrate e non solo saranno presenti almeno in parte e con loro poi ci dedicheremo a una bella festa al nuovo ristorante bambù, sempre di Spigaroli, che con un nuovo menù ci farà veramente delle sorprese. Grazie. Grazie.